Allora, mi chiamo Pirc Anna, si pronuncia Pirc Anna, perché vengo da una famiglia slovena e quindi la C si pronuncia Z, da noi. Sono nata l'8 di luglio del 1926, i miei genitori erano stati trasferiti per pulizia etnica da Trieste, perché il fascismo voleva italianizzare Trieste, perché tutta la periferia, Trieste è sempre stata italiana, il centro diciamo, però tutta la periferia è tutto il, diciamo, il contado dietro, il carso, insomma, sono tutti sloveni. Allora, mio padre era ferroviere e l'hanno trasferito come altri 8.000 statali, tra post telegrafonici, professori, maestri e ferrovieri, tutti in giro per l'Italia, noi, e noi siamo stati trasferiti in Irpinia. in Irpinia, c'è nata l'ultima delle mie sorelle, mia madre si è buscata la malaria, perché erano zone malariche lì, i miei, a noi ci dava il chinino, mio padre prendeva il chinino, mia madre, siccome le dava fastidio a ingoiare, sta fastidio a non prendeva il chinino, e così si è presa la malaria. Sta povera donna si è trascinata la malaria per un sacco d'anni, io me la ricordo che ogni tanto le venivano delle febbre che non, che ballava sul letto proprio, non c'era coperta che la scaldasse. In ogni modo, è andata così per tanti anni. Ma in che anni gli hanno fatto trasferire da Trieste? Da Trieste l'hanno mandato in Irpinia nel 1929, no, 28, 28. Mia sorella ho 27, forse era il 27, nel 27, perché mia madre era rimasta incinta e mia sorella è nata in aprile del 28, quindi era nel 27. L'hanno trasferita in, hanno trasferito lì in, poi appunto si è presa la malaria mia madre e mio padre ha fatto la domanda per essere trasferito in Alta Italia e lo hanno trasferito a Genova. A Genova ci siamo arrivati e praticamente insomma abbiamo, io ho trascorso tutta la mia giovinezza a Genova, ho fatto la scuola elementare, ho fatto la scuola media, sono andata a lavorare e insomma poi mentre lavoravo a San Pier d'Arena ho incontrato dei ragazzi che erano nel fronte della gioventù e lì ho cominciato a, anche se già prima io c'erano già dopo l'8 settembre c'erano i primi partigiani sulla Benedicta che, tra l'altro mio padre, gli riforniva delle armi, gli portavano le armi e poi venivano giù i partigiani, le prendevano e proseguivano. Erano proprio sulla strada per questo casello, noi abitavamo in un casello. Perché tu dicevi che già mio padre era antifascista, era socialista. Sì, mio padre era già un socialista a tempi del 21, comunista, poi insomma iscritto, anzi a Genova, gli portava la tessera il padre di Grillotti che poi hanno fucilato, hanno tortevato. Che tessera? Di Walter Grillotti. Ma proprio la tessera del partito, non del basso, se vogliamo dirlo. Del partito comunista, sì. Invece dicevi prima che non si è mai tesserato per i fascisti. No, per il fascismo no, non si è mai tesserato mio padre. Ma appunto poteva non farlo perché lui era invalido del lavoro, proprio in ferrovia. Ha avuto un incidente nel 1917, durante la prima guerra mondiale, e quindi lui era in una botta di ferro, non potevano mandarlo via. Ma è andato soldato la prima guerra mondiale tuo padre? Mio padre no, non è andato soldato. Mio padre era già ferroviere, quindi era, come si dice, era militarizzato. I ferroviere erano, anche qui durante la seconda guerra mondiale, lo stesso, erano militarizzati, praticamente. Dunque adesso ho perso il filo. Ah no, no, dicevi che tu sei entrata in contatto con un'antifascista. Ecco, sono entrata in contatto prima con i gruppi di difesa della donna, subito dopo l'8 settembre. Dunque io, mia madre aveva comprato una macchina da cucire e ha mandato, allora, questo concessionario dava la possibilità di imparare a ricamare a macchina. Mia madre ha mandato me e mia sorella più piccola a imparare a ricamare a macchina. Insomma, fatto sta che quando, dopo l'8 settembre, quando hanno cominciato a esserci partigiani su alla benedicta, avevano bisogno delle bandiere rosse. E io ho ricamato le bandiere rosse della benedicta, che poi chissà dove sono andata a finire, perché ne sono morti tanti lì, quando ci sono stati i rastrellamenti, non so se 150 e non so quanti sono morti. compagni, anche gente che io conoscevo, ragazzi che conoscevo lì del paese dove abitavamo. Insomma, è cominciato così, con i gruppi di difesa della donna, con il fronte della gioventù, e poi abbiamo continuato. Io lavoravo, poi lavoravo all'ansaldo, all'ansaldo c'era questo economo che mi passava le matrici, insomma, poi è stata una sequela così, c'è stata l'organizzazione, poi ho preso, sono entrata proprio nell'organizzazione del Partito Comunista, e poi ho preso, e poi ho preso,